Siamo in Veneto e queste sono le belle vette feltrine che fan parte del parco delle Dolomiti Bellunesi, mentre lì in fondo, sotto quella fita K, c'è Fonzaso ed è proprio a Fonzaso che nel marzo del 2007 è nato il Comitato Pragras, un comitato di cittadini assai preoccupati per la decisione dell'amministrazione comunale di Fonzaso di consentire l'insediamento di un'industria insalubi di prima classe, uno stabilimento della Forza Lumini e nonostante il sindaco Furlin continui a ripetere che a Fonzaso non ci sarà mai una fonderia, le carte parlano chiaro. Infatti l'ipotesi che venga realizzata una fonderia di seconda fusione è concreta e reale ed inoltre è possibile che in futuro si possano fondere persino rottanti. Noi crediamo che una valle così stretta in cui l'inversione termica trattiene al suolo le polveri e gli inquinanti, in cui gli sforamenti del PM10 sono frequentissimi, la disoccupazione maschile praticamente inesistente e l'incidenza dei tumori alle vie respiratorie tra le più alte del Veneto e addirittura d'Europa non sia affatto adatta per ospitare una fonderia. Aiutateci in questa nostra campagna!